Buonasera, benvenuti alla prima delle trasmissioni serali di Spunti e Spuntini. Ci troveremo ogni venerdì in questo mese di dicembre in prima serata per raccontarvi delle storie ogni volta legate a un argomento in particolare. Vi racconteremo storie delle nostre periferie oppure altre legate ai nostri giovani e altre ancora quelle che riguardano le donne e le loro difficili carriere nelle materie scientifiche. Ma vogliamo cominciare oggi raccontandovi delle storie che si interrogano sul concetto di normalità dell'essere umano e che cosa significa oggi normalità, che cosa ha significato invece nel passato. Lo faremo tra poco con la professoressa Laura Occhini che è qui in studio con me, che saluto, benvenuta. Benvenuta, buonasera Gloria. E lo facciamo subito andando all'interno dell'archivio storico dell'ex ospedale psichiatrico di Arezzo insieme a Ilaria Vanni che ha incontrato Lucilla Gigli, archivista dell'archivio. Vediamo. Oggi vogliamo portarvi all'interno dell'archivio storico dell'ex ospedale psichiatrico di Arezzo. Ci troviamo all'interno della palazzina dell'orologio qui al campus universitario del Pionta insieme alla dottoressa Lucilla Gigli che è archivista e coordinatrice dell'archivio. Cominciamo intanto cercando di capire da quanto esiste questo archivio e perché è nato. L'archivio storico dell'ospedale neuropsichiatrico è stato recuperato alla fine degli anni 90 quando l'Università di Siena ha comprato, acquistato questi locali che erano prima appunto la sede del manicomio di Arezzo. E' stato fatto un lavoro di recupero di questa documentazione che era sparsa nelle diverse palazzine che componevano l'ospedale e grazie al lavoro di alcune archiviste, della soprintendenza archivistica, dell'archivio di Stato e appunto dell'Università è stato possibile avviare questo lavoro di riordino che si è concluso nel 2004. Da quella data l'archivio è appunto ordinato e quindi consultabile, consultabile sia da ricercatori ma anche da privati cittadini che si interessano magari del passato della loro famiglia. Certo, il primo incontro che io ho avuto qui in archivio è stato appunto con il figlio di una signora che era stata ricoverata in ospedale psichiatrico negli anni 30 perché l'archivio appunto è una banca della memoria in cui si custodiscono le memorie di tante persone, uomini e donne che sono state ricoverate in manicomio. Ecco, per cominciare la ricerca si deve passare da qua che è la stanza che uno si trova di fronte appena arriva nell'archivio e già da qua c'è un bellissimo mobile che fa proprio da archivio esso stesso. Sì, questo è lo schedario in cui troviamo le schede appunto di tutti i pazienti, uomini e di tutte le donne che furono ricoverate in manicomio a partire dalla fine dell'Ottocento fino al 1990 quando l'ospedale venne chiuso definitivamente. In queste schede venivano riportati i dati anagrafici, il nome, il cognome, la paternità, la data di nascita e il lavoro degli uomini oppure delle donne che venivano ricoverati. È uno strumento che noi usiamo quotidianamente perché grazie a questo schedario noi sappiamo se una persona è stata ricoverata e a quel punto possiamo rintracciare la cartella clinica. Allora, dottoressa Gigli, noi intanto proseguiamo il tour all'interno dell'archivio storico. In questa stanza che cosa troviamo? In questi scaffali sono raccolti appunto i documenti dell'ospedale che raccolgono sia la documentazione amministrativa dell'ospedale psichiatrico, il carteggio del direttore, i registri di ammissione in cui venivano indicato nome, cognome e il giorno e la data esatta in cui veniva ricoverata una persona. E in più raccoglie, è la serie più consistente, le cartelle cliniche appunto. Sono circa 12.000 solo quelle dei pazienti ricoverati nelle sezioni mentali perché poi l'ospedale di Arezzo aveva anche una sezione neurologica a partire dal 1926. Ecco, invece in questo scaffale che cosa troviamo? Questo è l'archivio di Agostino Pirella che è stato direttore dell'ospedale psichiatrico dal 1971 al 79. Pochi anni, ma anni fondamentali. Gli anni in cui si decide appunto di chiudere il manicomio di Arezzo. Pirella era stato collaboratore e amico di Basaglia, avevano lavorato insieme a Gorizia ed arriva ad Arezzo proprio con l'intento di chiudere il manicomio. Un piccolo tassello verso una grande rivoluzione, ecco questo dobbiamo dirlo. Arrivarono ad Arezzo studiosi, giornalisti, ricercatori, volontari da tutto il mondo, da tutta Europa, appunto per studiare quello che veniva fatto ad Arezzo e per cercare di capire come arrivare alla chiusura definitiva di questi istituti che ormai erano anacronistici, parliamo appunto degli anni 70. Ecco qua c'è un altro tipo di archivio, non cartaceo, vero? Questo è un archivio sonoro e è l'archivio di Anna Maria Bruzzone, una storica torinese che arrivò ad Arezzo proprio per intervistare i pazienti psichiatrici. È un archivio che è stato recuperato e donato all'università nel 2017 grazie al lavoro di una professoressa, Silvia Calamai, che è riuscita a rintracciare la nipote che ci ha donato appunto questo archivio. È un unicum, almeno finora sappiamo, non abbiamo trovato altri esempi in Europa, è l'unico caso di interviste di pazienti psichiatrici e appunto sono state fatte nell'estate del 1977. Ecco qui siamo arrivati nella stanza forse più scenografica di questo archivio, una biblioteca interamente costruita in legno. Cosa è custodito in questa sala? Questa è la biblioteca scientifica dell'ospedale neuropsichiatrico, è la biblioteca che è stata costruita dai falegnami e dai pazienti che erano ricoverati in ospedale e raccoglie essenzialmente monografie ma anche riviste che hanno come argomento la medicina, la psichiatria, l'antropologia, la medicina legale ed è appunto quella, veniva chiamata così, la biblioteca scientifica. A fianco di questa abbiamo anche un altro piccolo nucleo di volumi che riguardano invece la biblioteca di Amena Lettura. È una biblioteca di romanzi, racconti, novelle a cui avevano accesso anche i pazienti che erano ricoverati in ospedale. Ecco quindi anche un bel messaggio è stata costruita anche da persone che hanno soggiornato come pazienti qui nell'ex ospedale neuropsichiatrico di Arezzo. Io ringrazio Lucilla Gigli, archivista dell'archivio qui del ex ospedale neuropsichiatrico di Arezzo e invito tutti coloro a retini e non solo che vogliono comprendere un pezzo di storia perché di fatto qua è passato un pezzo di storia a venire qui in archivio e consultare questi importanti documenti. Perché è sempre davvero molto emozionante grazie a questo servizio di Ilaria Vanni. E ora con la professoressa Laura Occhini che è ricercatrice e docente di psicologia clinica e dello sviluppo all'Università di Siena. Intanto professoressa perché si entrava in manicomio? Allora partiamo diciamo dalla legge 36 del 1904 perché prima comunque non c'era una formula oggettiva per entrare in manicomio. Quindi si entrava in manicomio per vari motivi e soprattutto quando praticamente non era possibile custodire quella persona per i suoi comportamenti o per le sue caratteristiche specifiche. Dal 1904 con la legge 36 si entra perché si è pericolosi a sé agli altri o si è di pubblico scandalo. Fondamentalmente quindi una legge che non tende all'accoglienza della persona che presenta un disagio psichico ma lo dico con le dovute virgolette una legge di polizia, una legge attraverso la quale il diverso viene escluso alla vista di chi può essere considerato nella norma. Certo, è isolato. Nel suo lavoro di ricercatrice noi abbiamo visto all'archivio lo schedario e tutte le cartelle cliniche che sono custodite. In questo suo lavoro di ricercatrice lei ha ovviamente visto queste cartelle. C'è stata una storia che magari è riuscita a ricostruire che l'ha colpita più delle altre? Sì, è una storia del 1923. Qui si vede la foto della persona che mi ha colpito, diciamo che mi ha affascinato. È una storia di non follia e quindi una storia di libertà perché è una donna che aveva scelto la libertà. La chiamo con il nome che lei aveva scelto di darsi che non è il suo vero nome, è Teresina. Teresina viene da un paese rurale della nostra provincia, viene fatta sposare a 17 anni solo in chiesa con un uomo che la picchia e che lei sostiene praticasse altre donne, ha questo modo di specificare la sua situazione di donna. Lei decide di fuggire da questa situazione con un carrettiere che la porta a Firenze. A Firenze fa la cameriera e in realtà fa la cameriera la mattina mentre di giorno, nella cartella clinica, quindi dal pomeriggio, di giorno, lei fa la meretrice. In una nota osteria viene sottolineato il nome di questa osteria con tre punti interrogativi. Si chiama la nota osteria del guanto. Quindi gli psichiatri tendono a chiarire che questa donna, questa bellissima donna, tra l'altro, giovanissima perché qui lei ha 19 anni, aveva scelto una vita che era una sua scelta totalmente. Lei torna ad Arezzo, probabilmente per una passeggiata. Lei amava il cinema, lo dichiara, e viene arrestata al cinema, viene portata dalla polizia ed ha delle generalità false e io trovo che è di una ironia questa donna, ti giuro avrei voluto conoscerla, perché dà un nome particolare, dice di chiamarsi Maddalena. Sì, è simpaticissima. Lì lei ha degli atteggiamenti particolari, simula degli attacchi epilettici, per cui lei probabilmente sperava di essere portata in ospedale, invece viene portata al manicomio. Al manicomio lo psichiatra dice che non ci sono i parametri, però continua a dare nomi falsi. E lei continua a sentirsi male, dice di avere un gran mal di pancia, un gran mal di pancia, la portano all'ospedale centrale da cui scappa. E il nome reale di questa persona lo scopriranno alcuni mesi dopo. Si è salvata così? Lei è scappata, sì. Fuggendo. Brevemente, professoressa Occhini, perché questa sera racconteremo altre storie che hanno a che fare con il disagio mentale. Qual è la differenza di approccio tra oggi e il passato? Beh, insomma, siamo in un altro... Io oserei dire che siamo proprio in un altro mondo totale. Nel senso che non c'è più il concetto di reclusione. Quindi abbiamo superato a partire dal 1978 il concetto di nascondere il disagio mentale e siamo passati al principio di inclusione, quindi al principio di autonomia della persona al suo progetto di vita e quindi al lavorare con questa persona in base alla sua precipua individualità e in base a quelli che sono i suoi progetti di vita, i suoi sogni, le sue speranze e le sue capacità oggettive. E lavorare anche con quelle che sono le capacità che si immagina che ci siano ma che non sono ancora espresse. E questo lo vedremo anche tra poco con due storie del nostro territorio che vi racconteremo. Intanto ringrazio la professoressa Occhini per essere stata con noi. Grazie. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo.